Parliamo ancora di musica dalle marche, oggi due musicisti, due solisti, Gaetano Guardino, chitarrista, marchigiano di adozione, Federico Paolinelli, pianista anconetano, due attori e due interpreti dalla forte espressività. Vediamo. Gaetano Guardino, un giovane chitarrista che dopo i primi studi e le prime esperienze musicali in Sicilia, la sua terra di origine, frequenta il Conservatorio di Fermo e si trasferisce nelle Marche. E alle Marche rende omaggio facendone la location del suo nuovo videoclip. Girato nella Baia di Portonovo, il video è realizzato sul brano La Story Zone di Brian May, il chitarrista di Quina, a cui Guardino si ispira per i suoi lavori, riarrangiato ed elaborato con il suo stile. Decisamente dotato, Guardino affianca alla chitarra elettrica lo studio di quella classica e questo lo porta ad avere uno stile melodico molto raffinato. Nel suo sound si sentono gli influssi dei grandi chitarristi, oltre a May, Satriani, Steffo Barnes, ma anche gli italiani, portera e battaglia. Realizza la parte di chitarra per la colonna sonora di un documentario, collabora con vari cantautori, apre i concerti di gruppi importanti. Insomma, una bella scorta di esperienze per un musicista così giovane. Grazie per la visione! Grazie a tutti.